Siamo pronti? Sì! Non ho sentito, siamo pronti? Sì! Scusate che qua non si sente, siamo pronti? Sì! Sì, d'acqua è pronto? Vado? 5, 4, 3, 2, 1! Se avete la possibilità guardate anche via del corso se siete in questo momento in linea d'aria e poi vi percorrete la tutta perché è meravigliosa davvero! Mentre il sindaco si trova in questo momento ancora con i bambini, aspetto che torni qui perché abbiamo...